Buona domenica a tutti, proseguiamo con i nostri aggiornamenti dalla Galleria Vittorio Emanuele di Milano e dalla Liberia Bocca. Oggi domenica 24 maggio e posso dire finalmente. Ormai erano tre mesi che il sabato e la domenica eravamo chiusi, ma abbiamo ricominciato questo weekend a riaprire, quindi cambieremo anche gli orari della liberia. Adesso faremo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17.30, sabato e domenica dalle 10.30 alle 16.00. Allora, stamattina leggendo i giornali ho visto che c'è l'affollamento sulle spiagge italiane. Questo non si può dire della Galleria Vittorio Emanuele che invece vede la presenza di pochissime persone e per non parlare della Liberia Bocca dove non c'è nessuno. Quindi non abbiate paura degli assembramenti perché qui non c'è nessuno, ma venite a trovarci per acquistare anche un libro. Oggi vi voglio portare molto vicino in un posto dove si potrebbe andare perché c'è anche il permesso, nel senso che stiamo in Lombardia e andiamo a Bergamo, più precisamente all'Accademia Carrara. Il problema è che purtroppo la mostra che è aperta ai primi di febbraio è stata chiusa e ahimè non è stata prorogata. Ma fortunatamente rimane a noi il testimone del catalogo. Questa superba pubblicazione che era decenni che mancava nel panorama bibliografico dell'artista perché assolutamente non c'era nulla, oltre solo poche fonti, ma oggi vi parlo di Simone Peterzano che molti di voi probabilmente non conoscono ma che è un artista veramente interessante ed è un artista ponte perché Simone Peterzano ha avuto la vita tra due grandi della pittura del 5600 italiano. Il maestro Tiziano, lui ha origini veneziane, poi si scopre che comunque l'origine del nome paterno e della provincia di Bergamo e, ascoltate bene, un giovanissimo Michelangelo Merisi entrò nella sua bottega all'età di solo i 12 anni ed è oggi riconosciuto a livello mondiale come il Caravaggio. Simone Peterzano, diciamo che in vita appunto si proclamava allievo del Tiziano, poi morì all'inizio del Seicento, anzi nel 1599 e non ebbe ai noi neanche la fortuna di vedere quello che il suo allievo fece per la storia dell'arte mondiale perché nell'anno in cui Simone morì Caravaggio stava per cominciare quella che fu la sua commissione più importante alla chiesa di Roma. Simone Peterzano è stato riscoperto grazie a Roberto Longhi, quindi ha avuto diversi secoli di oblio e solo nei primi decenni del Novecento Longhi gli attribuì quello che fu sicuramente uno dei suoi capolavori, cioè la decorazione della Certosa di Garegnano alle porte di Milano, quella chiesa bianca che vediamo quando prendiamo il cavalcavia del Ghisella, entrando ovviamente dalla Milano-Laghi e da Torino. Ovviamente vi invito ad andare a vedere questa Certosa che è considerata la cappella assistina della Lombardia ed è interamente affrescata da Simone Peterzano. Con questo è tutto, il libro ovviamente è disponibile alla libreria Bocca, l'editore è Schira, grazie all'Accademia Carrara e il prezzo è 38 euro. Vi auguro una buona giornata, a presto e oggi siamo aperti fino alle 16.30. Ciao!